Collezionisti di fumetti e discomaniaci, preparatevi. Domani e domenica Bassano Expo organizza l'evento che stavate aspettando. Torna infatti per due giorni Bassano Comics e Discomania, l'appuntamento per i cacciatori di dischi e fumetti da collezione. Per gli appassionati di fumetti o di dischi c'è una mostra a mercato, poi però anche i visitatori possono partecipare con i cospili, essere personaggi loro stessi dell'evento. Il mostra pezzi rari e curiosità in grado di ampliare ed arricchire anche le collezioni più preziose. Sì, infatti ci saranno più di una settantina di espositori provenienti da tutta Italia ed esporranno appunto pezzi rari che noi tutti cerchiamo da una vita, sia di fumetti, cd ma anche vinili. Tante le novità di questa seconda edizione ad iniziare dai tornei di videogiochi e poi per la prima volta una vera e propria gara cosplay. Sì, infatti la domenica ci sarà una gara cosplay dove tutti quanti possono partecipare e per i vincitori delle varie categorie ci saranno appunto dei premi. E una gradita sorpresa sarà riservata a chi vestirà i panni del proprio personaggio preferito. Di chi verrà in fiera appunto vestito da cosplay avrà una riduzione nel biglietto d'ingresso.